Signor Sindaco, allora il rifugio riscoperto non come rifugio, speriamo perlomeno, ma come deposito? Quello che abbiamo cerchiamo di utilizzarlo, dobbiamo rimettere insieme, liberare diversi magazzini dove in maniera disordinata erano riposti avanzi di materiali, documenti, bisogna fare ordine anche lì e allora questo spazio di questa bella galleria che è già sana per se stessa, che stiamo risanando diventa il deposito unico di tutti i materiali non deperibili, le nostre belle pietre che abbiamo le nostre piastrelle, i nostri mattoni, tutto il materiale non deperibile, di arredo urbano e quant'altro messo in un luogo solo, per cui quando c'è bisogno di qualcosa invece che ordinare e tante volte non trovare il materiale uguale, lo si trova qui in questo luogo, questo ci permette anche di liberare altri spazi, ad esempio Alprino dove c'è un posteggio coperto sotterraneo nella zona accanto a Aurelia, lì Alprino dove sono 80 posti auto da poter utilizzare e liberando questo spazio finalmente daremo un utilizzo proprio a quel sito, è nato come garage, mai è stato utilizzato, lo utilizziamo che vuol dire per quel rione, per la zona del Prino vuol dire tanta tanta cosa e qui nel contempo in ordine una galleria che servirà per scegliere il materiale quando si devono fare dei lavori e chissà mai e mai sarà, ma anche un luogo sicuro, del futuro non c'è mai certezza ed è meglio quindi avere anche agibile, illuminato e areato un luogo dove ci si possa incontrare o rifugiare in caso di particolari calamità. In sostanza facciamo un po' d'ordine. Ecco, tra l'altro vicino a una via Agnesi che si prevede di allargare, un'oneglia che si è parlato anche magari di pedonalizzare in qualche modo, insomma è una zona di progetti vivaci questa? Sì, perché via Agnesi è una variante di via Bonfante, di via Amendola e dobbiamo renderla percorribile quando si chiude il traffico o per periodi brevi o se si volesse pensare mai alla pedonalizzazione e quindi abbiamo un progetto che abbiamo presentato alla Regione, abbiamo chiesto il finanziamento nel Fondo Strategico Regionale, abbiamo chiesto, abbiamo progettato, aspettiamo la risposta, ma se non si progetta, quando poi ci sono le opportunità di finanziamenti non si ottiene nulla. Una considerazione a parte, i sindaci di Genova e Savona hanno annunciato l'apertura dei porti in caso di aiuto per le navi dei migranti etc., tonnellaggio, pescaggio permettendo, lei cosa pensa delle strutture non imperiesi o negli a Porto Maurizio? Nella politica della gestione dell'immigrazione che sta facendo il governo sono previsti diversi luoghi di accoglienza, in Diguria sono previsti Genova e Spezia, non è previsto Imperia, quindi è un problema che non ci tocca direttamente come città, nel complesso del ragionamento non c'è dubbio che chi scappa debba trovare accoglienza, ma sicuramente è un fenomeno che va gestito, non ci può essere un servizio taxi perché non fa che incentivare i trafficanti di esseri umani, ma nel caso specifico della nostra città è un problema che non ci interessa per o meno al momento.